Calvino, prende atto che la scienza del novecento non può aspirare all'unità ma tutt'al più alla molteplicità. Afferma oggi non è più pensabile una totalità che non sia potenziale, concetturale, plurima e aggiunge da quando la scienza diffida delle spiegazioni generali la grande sfida della letteratura è il saper tessere insieme i diversi saperi e i diversi codici in una visione plurima sfaccettata del mondo. Per Calvino la letteratura può e deve farsi carico di questo progetto ambizioso. Solo la molteplicità degli stili, dei linguaggi, solo le potenzialità semantiche delle parole, le connotazioni suggerite possono garantire, dice Calvino, una verità non parziale. Quello che Calvino intende fare, e sono le sue parole, e mi piacciono molto, è campionare la molteplicità potenziale del narrabile. Ecco, quel campionare la molteplicità potenziale è eccezionale. Sì, il problema è come. Come fa a campionare la molteplicità potenziale? Un po' leggendo i libri di Calvino ho individuato tre modalità, che trovo di interesse generale soprattutto perché opera nelle organizzazioni. Una prima modalità possiamo chiamarla iniziare versus arrivare. Mi spiego meglio. Una volta, dice Calvino, un romanzo doveva avere un inizio e una fine. E la fine era molto più importante dell'inizio. Facciamo due esempi. Il pellegrino Dante e il suo percorso assenza soltanto nel punto di arrivo, nella visione di Dino. Oppure pensate a Moby Dick. La navigazione del capitano Aqab sta nell'incontro finale con la balena bianca. E durante tutto il percorso converge il sapere e l'esperienza del mondo. Allora si domanda a Calvino, e se il significato sta nell'inizio, come recuperarlo? Allora, nella notte, nel romanzo, se è una notte d'inverno un viaggiatore, Calvino fa un esperimento estremamente interessante. Concentra in un solo romanzo dieci possibili storie di cui è narrato soltanto l'inizio, più una storia di un lettore e di una lettrice che leggono i dieci inizi in modo che restano abbastanza sconcertati. Un lettore, tra i vari lettori protagonisti del romanzo, afferma, mi piacciono i libri da leggere da principio alla fine, ma dopo un po' di tempo in qua tutto mi va storto. Mi sembra che ormai esistono solo storie che restano in sospeso e si perdono per strada. Ora, in questo inizio sospeso, Calvino trova una ricchezza enorme. È come stare in una stanza ricca di mille possibilità, dove ci sono mille porte che è possibile aprire e in cui sbirciare, anche se velocemente. Come fa per esempio Delacroix in questi tacquini di viaggio in Marocco, in cui in quattro immagini, in questi tacquini, disegna venti scene, venti scene soltanto abbozzate, perché, come dice Delacroix, la velocità è essenziale per non fare evaporare l'impressione del momento. Questo fatto è estremamente importante. L'inizio non è soltanto un punto trascurare, è un elemento ricco di potenzialità e mi rivolgo soprattutto a chi si occupa di progetti, perché l'inizio del progetto, se accettiamo il suggerimento di Calvino, è un insieme di potenzialità da mettere a fuoco e non bisogna pensare soltanto alla fine. Il secondo, il secondo, la seconda modalità di Calvino è il punto verso la griglia, versus la griglia. Allora, l'immagine tradizionale del sapere, dell'ottocentesco e anche settecentesco, è quella dell'enciclopedia, cioè una griglia di conoscenze da utilizzare per leggere e scrivere il mondo. Flauberti, già Flauberti in Buarco Cusce, dimostra che il progetto di radunare l'insieme dei sapere in un'enciclopedia è destinato a un imitabile e patetico fallimento. Allora il problema è, se non possiamo radunare le conoscenze del mondo dell'enciclopedia, come possiamo orientarci? Ecco, la soluzione che Calvino suggerisce è scegliere un punto, una cima elevata da cui osservare la varietà del territorio e da cui tirare mille possibili fili. La cima può essere un luogo, come per esempio nel nosocomio di Thomas Mann nella montagna incantata, in cui convergono tutte le inquietudie del novecento. Oppure può essere un delitto, come il delitto di via Merulana di Gadda, in cui convergono, come dice Gadda, molteplici casuali e il delitto non si risolve. Può essere anche un tema, ad esempio il tema delle città invisibili che tratta Calvino, dove tutta la ricchezza e la geografia umana è concentrata attraverso l'occhio e il punto di vista della città. E tra tutte le città devo dire che la città che mi piace di più è Ersilia. Non so se c'è un Ersilia qui tra di noi stasera, perché dice Calvino, a Ersilia per stabilire i rapporti che reggono la vita della città gli abitanti tendono i fili tra gli spigoli delle case, bianche o nere o grigi, o bianche e nere, a secondo se segnalano relazioni di parentela, di scambio, autorità, rappresentanza, ragnateli di rapporti intricati che cercano forma. Quindi il punto, piuttosto che la griglia, il punto di osservazione dove si può osservare il panorama complessivo. Il terzo, la terza modalità che intravedo è l'intreccio. L'intreccio rispetto alla linea che Calvino esplora nel castello dei Destini Incrociati, dove i tarocchi sono i fatti da cui trarre spunto per le storie. Ed è proprio soltanto l'intreccio di queste storie che svela e fanno esistere le cose. Infatti l'asso di coppe, a secondo dei racconti, è una fontana, una fonte di vita, una coppa sacra, un calice altare e così via. Cioè sostanzialmente le cose esistono e prendono vita all'interno di strutture narrative. Ecco, a cosa ci serve tutta questa molteplicità? La risposta che intuisco è questa. Serve a mantenere la nostra consapevolezza allo stato fluido. Una fluidità indispensabile perché, come suggerisce Calvino, solo attraverso una varietà di tentativi, di percorsi, di trasformazioni, di relazioni, può emergere in un prezioso e fugace lumeggiare della coscienza l'ego profondo del legame che ci tiene avvinti al mondo. Grazie.